e sono ragazzi benvenuti questi ragazzi e ragazze ma che sì allora oggi allora oggi siamo con la seconda parte del box delle bustine ragazzi io sto registrando cade subito e subito prima cadere al telefono allora io sto registrando io sto registrando oggi oggi è giovedì giovedì sì perché che sabato non ci stiamo andiamo al mare ma che sto registrando di giovedì comunque vabbè ve lo porto carico sabato sto video perché sabato è il video di presentazione quindi durante la settimana aprirò aprirò le bustine però il video vi porterò d'oggi e sabato 5 e 5 e allora ragazzi sono ritornato allora vi faccio vedere subito 8 25 combustione l'ho trovato il codice questo qua ho vinto tre bustine allora ho trovato che si doppio o vedesse ho trovato però codice 3 del cesena 3 della virtù sendella poi chi è questo chi cavolo e aspetta cristo 3 bustine poi cristoforo abbiamo calaccio quello che ha segnato al milan sorrentino 3 del dello spezia poi la supercoppa che doppia poi in culo porca valero poi è questo pellegrini ammonito ieri come entra codice 3 del cesena poi lo stadio libico la questo ce l'ho scuretto dalla roma vero 70 mila 634 posti codice 3 della l'endella trossato del milan doppio abbiamo orsolini locatelli in zigna che ho trovato grande diavara ex voglia pure diavara poi l'azzovic e chi è l'azzovic vabbè comunque torrera che c'è torrera che ci ha segnato purtroppo vedete buio codice accendi poi abbiamo 3 dell'ascoli e infine 3 dell'avellino comunque noi ragazzi noi domani andremo ad avellino comunque ragazzi ci vediamo dopo eccoci qui ritornati mio padre ritorna dopo tantissime anni da vedere un pacchetto bacchetto di figurine lui allora noi c'era lui c'era 5 pure 5 allora visto allora visto che sono visto che oggi ci oggi fisi oggi ci sei tu parti tu anche perché anche perché io con le figurine no vai qua con le figurine ci osa e vai oh oh no no voglio vedere i numeri aspetta 5 5 questo è del foggia no vediamo allora iniziamo chi è questo miangue senna ai miangue non sa non sa sono dalla stessa scuola no no non sa non sa aspetta non sa poi abbiamo del pinto del pinto benevento non può un punto nemmeno a pagare vabbè ha fatto un punto almeno poi codice che sfortuna che sfortuna lo stato della spalla doppio lo stato della spalla come si chiama ma e poi abbiamo la squadra poi della spalla attenzione attenzione la squadra della spalla ok assiemegliene tanta carcerata assieme e che ragazzi d'acca a me ma dove l'hanno preso in carcere che speriamo di trovare i giocatori del foggia e quelli della Juve ovviamente vediamo abbiamo pecolo falli vedere bene non si vedono vabbè non si vedono vabbè poi silvestri marcosau ex foggia poi abbiamo uuuu allora abbiamo il codice poi abbiamo la coppa Italia e poi la res roma la scuola femminile la scuola femminile io ho fatto anche l'album mio alla res roma qualche tempo qua si mette qua e vai l'inglese no no pucciarelli inglese gli assomiglio un po' eh vai aspetta che voglio far vedere il nome pucciarelli barberis barberis paloschi doppio aspetta che si vede il nome come vedi oh con la maglia del carcerato uuu abbiamo vinto una bustina ancora un'altra tre del palermo tre del palermo e poi lo scuretto del benevento che figato benevento che figato lo scuretto del benevento la strega di benevento la strega senti ma queste figurine le devi mettere da parte dopo eh per andare da filippo e prendere abbiamo froiler un saluto a filippo dell'edicola chiamo froiler spinazzola allan vabbè vabbè con questo codice tre del brescia e uno del foggia no e che belotto torino poker d'attacco jacob falke miang belotti e gli aici ma questa busta esce esce uno del foggia il giocatore del foggia esce una del giocatore del foggia vai chi è questo chi è cordaz questo già cordaz beriscia beriscia portiere dell'atalanta eh beriscia Dzeko attenzione hai sbagliato il vigore Dzeko ieri Dzeko dai divinto codice tre del cesina e poi eeeh il trio delle meraviglie il trio delle meraviglie Mertens, Galeone e Insigne eeeh vedi come fa eeeh eeeh beh su allora io le dico questo qua esce un giocatore della Juve potrete il foggia e Bernardeschi si Bernardeschi ma manca il giocatore del foggia ha giocato bene ha giocato bene ha giocato bene Bernardeschi il carcerato schiattarella matos codice che va al policella si vede oh e che squadra è femminile si femminile e poi la prima maglia del Bologna noi siamo sempre in attesa della del giocatore del foggia foggia uscirà mazzeo ma purtroppo sei infortunato quest'anno eh eeeh la manna la manna la manna che sa parare gomis 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 va 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 palermo ma fuggia niente non si trova niente foggia foggia nessuna del del foggia quasi eh uno del lì nagatomo questo è triplo questo ce l'ho triplo nagatomo ce l'ho triplo nagatomo gobby ma non è che sta qualche italiano Iago Falch codice 3 del carpi e poi eh questo ce l'ho pure doppio è nato per il gol immobile ceruzzi putti la bussina per papà l'ultima per me chi è questo d'albert d'albert dell'inder ma che è sta maglietta dell'inder quando è brutto quest'anno è bella questa moglie vabbè comunque d'albert d'albert verdi italiano bravo verdi cigarini pure italiano doppi cigarini italiano codice codice pescara pescara 3 del carpi fuggia niente proprio eh vediamo un po' se in questa bustina eh uscirà qualcuno che dice che è bonucci l'equilibrista 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 merda beh ma 7 scudetti 3 coppie italia e 3 super coppe si della juve si della juve bonucci cesar nuiting codice 3 della spezia di brigofoggia 3 della avellino niente niente vabbè comunque bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi iscrivetevi al canale mi piace tutto tutto ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao